Cos'è la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale è una Corte composta da giudici che valutano se le leggi dello Stato italiano sono conformi agli articoli della nostra Costituzione. Una legge che non è conforme agli articoli della nostra Costituzione viene abrogata, ritenuta nulla, perché non può esistere in Italia una legge che vada contro gli articoli della nostra Costituzione. Ciao al prossimo video, vi aspetto!